In futuro i musei saranno molto diversi e sempre gli stessi. Grazie alla rivoluzione digitale, o magari per colpa della rivoluzione digitale, è cambiato tutto. È cambiato il nostro modo di comprare, di andare nei negozi, è cambiato anche il nostro modo di andare nei musei. Quindi c'è una dimensione virtuale e digitale anche per i musei, ci sono nuove tecnologie immersive, ci sono robot che sono comandabili a distanza per fare visite a musei senza essere sul luogo, però i musei non passeranno mai di moda o non passeranno mai di necessità nella vita umana, perché i musei sono dei luoghi, sono luoghi dove andare per cambiare marcia. Se abiti in una città piccola che ha un museo vai per passare alla marcia superiore, se invece sei in una città come New York dove hai bisogno di una pausa, scendi di marcia in un museo. Quindi penso che la tecnologia avanzerà e noi come musei ne trarremo vantaggio, ma rimarremo sempre luoghi, prima di tutto luoghi.